Partiti. Assume l'iniziativa ITIS, poi in seconda posizione il favorito climatologist, quindi Granelisè, mago di Brentford, segue a qualche lunghezza, guanito sprint, avanti dopo i primi 200 metri di corsa con ITIS in avanti a due lunghezze climatologist, poi Granelisè in terza posizione, quarto e mago di Brentford, poi guanito sprint. In tale ordine si affronta la piegata con in vantaggio sempre ITIS, al suo esterno si propone il favorito climatologist in terza posizione Granelisè, poi mago di Brentford con all'esterno guanito sprint. Cavalli in dirittura d'arrivo con climatologist all'arco dello schianamento in vantaggio, passa climatologist nei confronti di ITIS nella partistrada iniziale, passato in buon vantaggio nel finale climatologist risolve questa reclamare, poi al secondo posto ITIS al terzo Granelisè. Vince quindi Giuseppe Ercekovic per i colori di Sebastiano Guerrero, il training di Melania Cascione, 1,65 la quota per il figlio di Dottor Divius che cambia azione a 300 conclusivi e vince nettamente questa reclamare. Stiamo rivedendo proprio le battute finali con il successo di climatologist nei confronti di ITIS, poi Granelisè. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, lì nella regia.